Ehi, la tua ragazza è molto carina. Siete sposati? No. Già, ci avrei giurato. Le feste vi piacciono? Sì, qualche volta. Ti va di prendere una stanza? L'idea piacerà anche alla tua donna. No, non credo proprio. Penso che voi ragazzi non sappiate più divertirmi. Dovevi esserci a Woodstock quando ero ragazzo. Scopavo tre troglietti al giorno. Sulla mia moto anche. Ehi, Belloccio. Va fuori e metti 5 dollari di benzina, va bene? Sì, certo. Desidera? 5 dollari per la biva, 5 dollari per la benzina e un pacchetto di cano. No, voglio il tipo senza filtro. Ehi, è un motociclista? Certo che no. Sono il cavaliere solitario. Che stronzo. Gli darei un calcio in culo. Per me, occhiali nuovi. E per voi, caravelle. Così, è stato chiesto un solo addebito ieri notte, giusto? All'Amnex Hotel a San Bernardino. Ok, grazie mille. Se hai bisogno di qualcosa, sono qui. Si indiricono a Las Vegas? Già. Chiamo subito quel dipartimento. No, aspetta. Dobbiamo vedercela da soli, Webster. Qui è scritto che tutti gli alieni sulla Terra vivono alla Casa Bianca e governano il paese. Sembra quasi vero. Sono proprio come degli esseri umani, non li riconosceremmo. Cosa vorranno? Andevamo piano. Tenete.